benvenuti in questa nuova puntata numero 37 di 2140 podcast e la gente qua si chiederà ma per quale motivo ho un deficiente sullo schermo sì oltre a quello ma per quale motivo c'è un bellissimo uomo vestito da tinky winky con un costume poco probabile già perché di aria express orribile e perché è tutto viola beh ragazzi miei lo scoprirete nei prossimi giorni nei prossimi periodi per cui adesso direi che possiamo in realtà riportare tra poco il setup la classica condizione c'è qualcuno c'è qualcuno c'è qualcuno l'abbiamo visto l'abbiamo visto ma il mio fra pieno di splonga lo facciamo sta da bando fortissimo lo facciamo entrare poi tra poco il fra nel 2016 essere tipo i bambini dell'elementario 2016 tu 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 e se lo dicessi in america no 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 incredibile sarebbe un qualsiasi ricreazione sarebbe una scuola americana dispongo di due dispositivi cellulari caspita sta attento uno esplode allora 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 ma lo sai che appunto come dicevo questa sera abbiamo degli non lo dicevo in realtà però questa sera abbiamo degli ospiti degli ospiti importanti che vengono dalla nostra svapare bannabile in live no se ci banano dovrò intervenire però e cosa farai intervenrò caspita twitch twitch devi avere paura questo è un meme veramente fortissimo comunque comunque benvenuti ragazzi miei benvenuti in questa bellissima puntata numero 37 di 2140 podcast incappucciati edition incappucciati edition e volevo fare un attimo i i ringraziamenti a due persone importanti che ci hanno seguito di recente abbiamo big luca a parte big luca che è fortissimo abbiamo bruschetta 1992 forte cazzo ormai sarà andata male secondo me cioè dipende con cosa lo fai bella questa vera potrei andare a las vegas a fare un show sì 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 secondo me sì se avessi una fidati che se avessi una banda dietro sarebbe un'altra storia e beh secondo me però comunque rende lo stesso cazzo sì ci abbiamo ecco qua tinky winky dipsy laleppo sì gli altri tre dice twiki niki twiki niki arriva twiki niki cosa c'era in quel sole con la faccia da bambino aspetta aspetta perché ci abbiamo anche pizzaiolo 1987 sono io sono un po di anni che fa il pizzaiolo buonasera buonasera ale ormai c'è alex in realtà è mio fratello ormai in realtà appunto anche il buon alex è uno degli og di 2140 perché c'è sempre anche lui ok così sono un attimo più presentabile e non che di solito lo sia però diciamo che con il costume da tinky winky proprio non è il massimo e però appunto poi vi spiegheremo il perché di questo di questo costume di questo setting o anche no colori oppure no no se se non ci gira per quale motivo dovremmo essere costretti a farlo intanto butto un po di musica di sottofondo e poi direi che possiamo cambiare le luci per ritornare al nostro classico setting azzurro e arancione allora prego accenda pure quella luce lì intanto sistemo questo guardate osservate come funziona qui al 2050 podcast guardate raga bello che dite secondo voi è meglio se usiamo urani impoverito di questo cioè facciamo un sondaggino perché in casa buonasera eccoci qua adesso mi sento già molto più a casa mi piace un caldo la testa tra l'altro lascia stare mi sono dovuto togliere quella roba perché sai con tutti questi capelli che abbiamo in testa aspetta che mi dicono davide sembri il grande puffo la luce ti fa blu non viola auto blu e vabbè sti cazzo posso dire auto blu ma aspetta ma perché sto commento è bannato per sex words perché hai detto la parola con la cu con la viola con la viola viola è bannato per sex words perché dentro è viola non è rosa non so di cosa sto parlando invece sì ma vabbè comunque ho consentito il commento perché appunto era bannato per sex word a questi punti diciamo tano scoc si infatti ora viola è ora sì che sono viola comunque eccoci qua eccoci qua ci mancavate ragazzi ci siamo persi ma ma viola ma viola va bene ma viola siete mancati ragazzi ci siete mancati tantissimo anche perché abbiamo saltato una live e questa live di mancanza veramente ci ha fatto quasi piangere per favore a proposito di live che salteranno già salteranno virgola in realtà la prossima live è quella di mercoledì non sarà mercoledì sarà di mercoledì 8 sarà giovedì 9 che devo fare una sessione serale informazione una roba importantissima una cosa devastante allora allora ma se cosa possiamo fare no possiamo non abbiamo idea di quello che possiamo fare siamo dei poteri che ci conferisce 2140 possiamo fare un po di analisi di mercato di mertano però sistemo un attimo o la o guardate guardate allora arriva il grafico vediamo un po cosa succede cosa cosa succede è un po che si chiede ii allora un secondo che qua devo camminare l'inquadratura e lo so questo questo è il bitcoin sul daily nostro caro bitcoin sul daily che spinge più che una bull flag un bull pennant più che altro sta creando un canale un rising wedge giusto però in questo caso io lo chiamerei ancora prestino perché il pennant dovrebbe essere sostanzialmente due due un supporto una resistenza diagonale che si incontrano al centro della formazione una flag come sappiamo sono supporti resistenze orizzontali dopo un movimento bullish e invece un rising wedge può succedere anzi spesso succede dopo un movimento bullish ed è una una resistenza leggermente più inclinata rispetto a un supporto molto più diagonale lineare e quindi possiamo chiamarlo direi un rising wedge anche perché siamo sul daily sul quattro ore sarà ancora più evidente e chiaramente il rising wedge è più difficile da rompere a livello di resistenza piuttosto che ritestare magari supporti precedenti perché chiaramente la resistenza comincia a farsi sempre più alta e quindi btc per scuotere questa formazione in maniera positiva forse dovrebbe testare direttamente i 37k in tempi non sospetti vedremo sicuramente c'è livelli intorno ai 30k potrebbe essere più che fisiologico la resistenza più più ovvia in quella zona è 31 adesso quindi potremmo sicuramente vedere un piccolo d'amberello e se no se dovessimo continuare sopra i 35 credo che 40k siano abbastanza evidenti in quel caso e soprattutto perché a livello di volume e di formazione non c'è nulla c'è il par west sì sì ma infatti se guardi qua c'è praticamente è tutta vuota questa acqua in mezzo perché abbiamo dampato come i pazzi e non ci siamo mai fermati non c'è stata proprio la possibilità di andare a costruire strutture in quell'area lì ora come ora però comunque appunto ci ritroviamo intorno a questa zona dove siamo in una fase di leggeri per comprato comunque nel senso siamo molto estesi per cui per questo motivo un ritracciamento sarebbe più che normale avercelo per cui non mettetevi le mani nei capelli devo stare salute che se ne va mamma mia raga c'è alex che ci fa notare infatti stavo guardando il commento ma igold oggi che poi in realtà ha fatto non avevo letto un cazzo siamo elro eh sì no infatti ha fatto 27 rebranding ah è vero è vero è vero è vero è erond igold adesso multiverse ex era perfetto perché era basato sul signore degli anelli infatti i rest my case infatti cazzo di elfo millenario e non so bene per quale motivo erond abbia fatto i gold ok e non so perché abbia fatto questa mossa qua perché appunto non seguiamo più di tanto erond però eronde cioè non è la prima volta che fa ste mosse erond kusama v chain sono tutte coin che magari non fanno un cazzo per dieci anni ma poi da nulla era per me e non mi ricordo la scorsa burran che erond aveva cominciato a scusa i gold aveva cominciato a stringere un po di partnership con gente comunque grossa e ti parlo di porsche mercedes che sono sbaglio e disney per andare a costruire metaversi via dicendo comunque applicazioni per quanto riguarda queste grosse case in ambito metaverso nft eccetera eccetera una piccola chicca per tutti i nostri ascoltatori sia su erond che su kusama rispettivamente stavamo valutando ingressi dopo post dump tra l'altro molto molto bullish ha le price tag rispettivamente di 200 e di 500 400 per kusama e non siamo entrati e alla fine erond ha fatto un altro pump e kusama è andata quasi a 600 penso poi adesso erond alla fine ci avevo fatto un po di cash un po di roba perché poi avevano lanciato il loro dex con degli apr folli si fermava veramente veramente bene è il dex bravissimo il dex si fermava veramente veramente bene ma vi parlo di apr intorno a tipo i 600 500 roba malatissima su pers comunque tipo e gold usdc per dire per cui super chill come roba il punto è che questi apr sono durati tipo una settimana poi c'è venivano dimezzati ogni settimana e a una certa poi sono andati molto tranquilli alla fine tutto l'ecosistema è parecchio calato insieme ovviamente a tutto il resto della defy però sarebbe molto interessante andare a vedere e com'è messa adesso la situa non so in realtà non sto cioè non starei neanche a cercare tutto nei meandri la peppa che quella roba che si muove sembra un ectoplasma che bello vabbè poi magari ci facciamo un po di studi a riguardo vediamo un attimo come come sta situando la situa sembra sembra mio cugino franco la sicura che si muove è successo caspita e cosa gli è successo ha scoperto kchulu il dio eterno oh già devo intervenire eh forse sì magari si riesce a parlargli di dio fra zio dai potrebbe essere una cosa cioè se frena date una garmata e comunque comunque ritornando un attimo alle cose un attimo più seri mi chiudo quella tab lì perché sicuramente pesa tantissimo il buon ethereum il buon ethereum ci sta facendo se tu non ti muovi no se tu non muovi quelle chiappe di merda stavo per dire super juicy anche sì e però se tu non ti muovi no sì perché oggi hai mi hai fatto iutisimi noti noti no sei andato oltre 19 sei andato oltre 19 se io ho detto tipo 1911 tra l'altro ha rotto delle formazioni perché noi facciamo le analisi 1915 c'è l'analisi tecniche doveva avere un target anche molto più bullish cazzo rompe mille nove rompe la formazione precedente allora la formazione sul daily perché ormai è da da credo sei mesi che sia in un range tra i 2.000 e 100 e 1.500 cazzo se rompe se rompe mille nove perché è un range leggera leggermente discendente a livello di resistenza rompe mille nove cazzo il prossimo target 2003 di vera e propria resistenza oltre 2.000 resistenza fisiologica ok cazzo si rompe anche la formazione sul 4 ore sul daily più piccola dopo il pump di btc c'è stata anche una piccola non la chiamerei bull flag ma comunque wedge bullish per ethereum cazzo continua il trend target deve ritestare i 2.000 va a 1910 scoreggia torna indietro io dico ok ti sono grato che full disclosure noi abbiamo fatto delle entrate molto molto positive su ethereum perché io ora sono uscito ad ethereum io no piuttosto perdo tutto bastardo però siamo entrati appunto a prezzi molto buoni non ha fatto niente che sia simile a solano a btc però comunque si sta muovendo il brovo diamogli il suo tempo ti devi muovere ti devi muovere mi dispiace non ci sono mezzi termini sono mezzi termini pochi cazzi non so se ti ricordi tempo fa comunque avevamo un bitcoin sui 30k più o meno prima dei vari d'ampe eterum a 2.000 a 2.100 e adesso in realtà appunto eterium è piuttosto lagging behind la busta è una busta è una bella busta ti devi muovere non fanno rimuovere se tu se il fango rating altissimo se tu tra ti do un mese due mesi solo mi fai un pump esplosivo cosa succede devo intervenire e cosa fai intervengo merda sei avvisato è avvisato merda starei molto attento anyway anyway mio caro e questo significa che principalmente adesso l'interesse si sta muovendo su bitcoin su bitcoin in vista anche dell'approval dell'etf però guarda qua metrica molto interessante allora eterium bitcoin resta abbastanza fermo qua sotto ma la dominance di bitcoin nonostante prima stesse dominando di brutto sta ricalando un attimo per cui dove si stanno muovendo questi capitali è un principio di spostamento di capitali non al di fuori del mercato ma sulle alt ricordiamo che molto spesso si può contraddistinguere un trend bullish da un momento magari di consolidazione o di ripresa per poi tornare a essere a capitombolare nel bearish momento da come si muovono i capitali da btc nel senso che se i capitali semplicemente escono dal mercato chiaramente se ci sono pochi volumi su tutto il resto tranne che btc probabilmente un momento in cui btc su con qualche catalyst come può essere il rumor dell'etf che si fa sempre più sostanzioso oppure qualcosa di macro semplicemente si riprende ma poi torna a essere un po più quieto in attesa di tempi migliori come l'alti assolutamente mentre se i capitali rimangono nel mercato e semplicemente seguono il flusso di btc poi eterium e quindi eterium che fa un movimento semi speculare a btg come ha sempre fatto nei momenti più bullish a distanza di magari qualche giorno e poi sulle major alz oltre a eterium e poi sulle meme e sulle shit coin sulle shit questo vuol dire molto spesso che sono investitori che non sono stanchi del mercato cripto investitori di una certa dimensione anche di una certa frequenza di investitori anche retail che invece che voler uscire dal mercato cripto perché non ci stanno credendo in quel particolare momento scelgono di realizzare i profitti su btc e investire nelle cose che si sono mosse di meno quindi btc eterium e quindi parte questo da quel grafico lì vediamo che vi faccio vedere vi faccio vedere anche un'altra cosa molto interessante poi introduciamo l'ospite che qua questa linea verde acqua in realtà l'acqua non è verde sappiamo tutto sotto casa mia sì questa era una città marco merrino abito vado ligure brutta storia vado ligure male dentro la ciminiera stare io sono sono di pelli pur così se andiamo a vedere questa questa line appunto verde acqua e azzurrina vediamo che la market cap delle stable coin è in leggera salita per cui i miei dollari diventeranno più dollari porto a genua fatto sta che appunto l'interesse sta entrando anche nelle stable coin piuttosto che su bitcoin significa attenzione possibile paura all'interno dei mercati non un eccessivo panico perché comunque non è un movimento critico verso l'upside ma e l'altra cosa che sta prendendo molta market cap è la nostra brossolana ma io su questo faccio del male su questo su questo messere mi sentirei di fare entrare l'ospite io no io lo farei aspettare si farei aspettare altri 50 minuti è un bel pezzo di merda è però guarda solamente perché lui farei entrare è bravo alla fine schillato è schillato è molto schillato è anche vecchio no quindi non facciamo l'aspettare sennò si addormenta io e te li portiamo molto peggio io ho 46 anni ma almeno l'ho no no vabbè ok te ne avrei dati non lo so 22 ah sì 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 in verità ho mentito non 49 ah ok allora sì allora quindi signora signora dietro alla tirreno power cazzo ma te ci scherzi sulla tirreno power ma porta rispetto che quella è un pezzo di storia liberateli non toglietemi le ciminiere per favore comunque signor vedro io lo chiedo gentilmente di farci un thumbs up se lei è pronto così la fa quello non è un thumbs up quello cos'è dietro il mignolo 3,2,1 eccolo qua dottori professor zapotec professor vedro di nf.it zapotec di topolino è tipo è tipo l'mit però è l'nf.it l'nf.it una roba seria n per cosa sta norvegia institute of technology norvegia institute of nft conta che all'mit c'è uscito charles oskinson hai visto che effetto che fa sta cercando gli alieni per cui dall'nf.it non so chi ci sarà uscito guetro guetro laureato con massimi voti comunque siamo lì siamo lì siamo lì com'è raga tutto bene? tutto bene tutto bene a parte le alluvioni tutto bene c'è le ligure alla grande c'è le ligure c'è quella che era a casa mia che è sotto 10 metri ma a proposito com'è il mare a Savona? perché oggi sono andato in spiaggia c'era c'era una mareggiata pazzesca dov'è che sei andato scusa? avvesima no no aspetta dov'è che sei andato? corsi d'Italia no 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 il luogo in cui sei andato che l'hai detto un attimo fa ah no perché voi andate a spiaggia bravissimo ah è andato a spiaggia a spiaggia mi stavo un po' triggerando questo è il bifo tra i ligure vado a spiaggia vado a spiaggia grande ragazzi aspetta ma sei andato in spiaggia dove sei andato in spiaggia? dov'è che è andato? lo dico per lui sono andato in spiaggia a Bocca d'Ase a Bocca d'Ase? Bocca d'Ase no qui c'è la statua di Garibaldi e poi si scende in spiaggia sì no infatti non è proprio il caso di andare a spiaggia no in questo momento la spiaggia è inesistente qua cioè non c'è più la spiaggia sì 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 no clamoroso comunque ringrazio il buon Willow Wonka X per essere diventato il nostro centesimo follower la fabbrica di cioccolato che però non è cioccolato vero è scremento è quello strano il cioccolato quello strano allora Uedro Uedro intanto abbiamo visto la sua bellissima ospitata sul canale del buone Eugenio ah sì l'hai vista io l'ho vista ho fatto anche un bellissimo memazzo importante che è andato fortissimo dieci e lode veramente chad buon chaddone con la leggera esposizione su Solana io sono all in sinceramente sinceramente non mi interessa non interessa comunque mio caro per tutti coloro che non la conoscono le chiedo gentilmente di farci un'introduzione al volo e poi cominciamo a parlare della ciccia degli argomenti che ci sono in questa serie il sugo il sugo mambolosco bene io sono Uedro sono co-founder di NFIT community italiana su Solana in effetti nello specifico e in effetti su Solana nello specifico e direi basta that's it that's it comunque stiamo vedendo i nostri bei ragazzoni che stanno facendo dei passi importanti a livello di produzione video a livello di attività sui social comunque sono molto molto attivi tirano fuori delle belle chicche ogni tanto per cui ragazzi se vi interessa il mondo degli NFT e se vi interessa sentire questo leggero accento ligure che vi pervade gioiosamente le orecchie fate un salto sui canali social di NFIT principalmente YouTube principalmente Twitter poi abbiamo anche l'Instagram abbiamo qualsiasi cosa si sono desboomerizzati si sono siamo riusciti a desboomerizzati siamo riusciti a desboomerizzare doppia negazione e via doppia negazione desboomer in verità ne basta uno debboomerizzati te o desboomerizzati c'hai ragione e vabbè però sti cazzi suona benissimo desboomerizzati suona bene sì 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 allora quindi abbiamo visto che Solana in questo ultimo periodo qualcuno ha venduto troppo presto qualcuno ha venduto troppo presto allora abbiamo visto che Solana in questo ultimo periodo ha fatto un po' la parte del leone si è fatta questa run incredibile e io sinceramente dopo che in un mese siamo passati da 20 dollari a 30 e passa ho detto vabbè 40 e passa a 30 e passa ho detto vabbè figurati cosa fa un 100% in un mese no poi c'è il break point c'è di solito il break point è un sell event no comunque c'è il classico sell the news un cazzo un cazzo di niente e io appunto mi assumo la colpa di aver venduto intorno ai 30 io no è colpa di Solana colpa di Solana e perché ho detto vabbè figurati adesso faccio la mossa ricomprovi in basso e gli interessi si impennano devastante però volevamo chiederle messere intanto lei cosa ne pensa di queste di questi recenti movimenti di Solana se magari era semplicemente questione di ritrovare un fair value al quale è stata sotto in un periodo o se lei messere la vede abbastanza overprezzata e volevamo chiederle anche come questo ha influenzato il mercato degli NFT nel quale lei comunque è bassica abbastanza allora domanda numero uno e allora intanto inizio dicendo che forse sono il meno qualificato per parlare di che cosa effettivamente è successo al breakpoint ma darò diciamo la mia visione profana dove mi mancano tanti elementi per diciamo fare una divulgazione approfondita sull'argomento però ci limitiamo alla superficie di quello che conosco intanto sicuramente come stava nella domanda Solana probabilmente ha trovato un fair value che le era stato sottratto proprio da una serie di eventi che catalizzatori all'inverso che hanno fatto sì che si andasse a depreciare più del dovuto probabilmente si trova in una posizione anche di capitalizzazione di mercato veramente alta perché tolte le stablecoin è tipo in quarta posizione dietro BNB quindi comunque stiamo parlando di posizioni abbastanza prestigiose o forse c'è Bitcoin Ethereum Ripple BNB e Solana quindi la posizione e diciamo che sì solitamente il breakpoint è un punto in cui il è un è un evento in teoria sell the news diciamo che in realtà l'anno scorso sell the news è stato il crash di FTX più che altro più che il breakpoint stesso leggerissimo sell the news leggero tra l'altro leggerissimo e come dicevo in uno degli ultimi video che ho fatto speravo proprio che questo breakpoint andasse diciamo a riconfermare la posizione di prezzo di Solana precedente al crollo di FTX sarebbe stato un segnale molto importante proprio perché va a recuperare quella quella fascia di valore in cui si sarebbe forse trovato senza che ci fosse stato quell'evento di mezzo inoltre il fatto è che diciamo l'altro lato della della medaglia è il fatto che FTX stia continuando a minacciare questi Solana c'ha un milione 600 Solana che è pronto a vendere però sono stati misti in staking sì ecco questa per esempio mi manca mi manca io sto continuando a sentire abbiamo i Solana adesso li vendiamo quindi diciamo questa cosa non aiuta sicuramente cioè siamo ancora sotto stagio da il buon vecchio SBF o chi per lui è il detentore attuale anche perché bisogna da quanto capito devono vendere questi cacchio di token per rifandare parte diciamo delle perdite degli investitori o di chi aveva crypto su FTX e Solana forse è uno dei più papabili proprio perché anche con l'apprezzamento fa abbastanza gola sapevo anche però che le vendite sarebbero state fatte OTC che quindi non avrebbe impattato più di tanto il prezzo comunque al di là di questo sicuramente le notizie che sono state date al breakpoint hanno fatto davvero tanto poi immagino anche l'euforia dell'evento ha creato diciamo partecipazione benessere per per i presenti che poi hanno condiviso a loro volta sui vari social questo senso di benessere di come dire sicurezza sicurezza dal punto di vista del valore della community che è forte e del fatto proprio che la tecnologia di Solana potrebbe veramente prendere piede e soprattutto non lo voglio dire per non voglio dirlo troppo forte però diciamo la narrativa del fatto che Solana potrebbe effettivamente prendere il post ethereum ovviamente siamo ancora abbastanza lontani però inizia un po' a sentirsi questo eco qualche modo ethereum potrebbe sentirsi un po' con il fiato sul collo non voglio dire che ethereum verrà cancellato dal dal mondo però anche una narrativa dove entrambe le blockchain possano coesistere su funzionalità differenti vediamo che comunque adesso diciamo che a livello di market cap c'è bitcoin che fa la parte del leone ethereum subito dopo però comunque con una market cap importantissima e poi con un sacco di distacco tutto il resto per cui è possibile che magari piuttosto questo distacco qua vada un attimo a appianarsi non sarebbe la prima volta mi ricordo bnb nel 2021 che delirio che aveva fatto c'era lì era concretamente che era appena stata lanciata la bsc non fosse stato lì c'è una lama a doppio taglio perché allora se non fosse stata legata come chain e come token a binance e alla binance chain all'epoca binance smart chain sicuramente non avrebbe raggiunto così in fretta la sua market cap e vabbè ci siamo dall'altro lato avrebbe avuto una possibilità raggiunto quel punto di sorpassare tero perché diciamo che quello che ha fatto male veramente a bnb è stata la centralizzazione di binance come checks e anche tutti i cazzi che si sono dovuti vivere 40.000 scam comunque cioè tutte le varie meme coin inizialmente erano erano su bsc perché comunque ti costa veramente poco fare uno smart contract lanciare un token fare transazioni per cui giustamente questo nel momento in cui è partita la narrativa meme coin è diventato terreno fertile per un sacco di progetti scam che hanno comunque rovinato parecchio l'estetica diciamo del settore la qualità del settore percepita dagli utenti esterni ma anche dagli utenti interni che magari hanno perso soldi con i vari scam token sì diciamo che questa tra l'altro è una narrativa proprio che va forte su Solana nel senso le shitcoin sono costano niente da fare e ovviamente stiamo parlando oltretutto di lo stiamo vedendo proprio in questi giorni diciamo una sorta di piccolo meta di shitcoin su Solana che ogni tanto ritorna il difetto che attirano poco le shitcoin su Solana perché non si riesce mai a raggiungere una market cap che giustifichi il rischio in qualche modo cioè su Ethereum arrivare a 15 milioni 20 milioni di market cap su una shitcoin abbastanza semplice Solana fa fatica a superare il milione nella maggior parte dei casi poi c'è quella che ti fa il 10 milioni e se sei entrato presto bravo te però è rarissimo la maggior parte non riescono neanche a superare il milione non lo so quando è uscito BSC e con tutta la questione delle meme coin probabilmente ha tirato tanti da Ethereum cosa che in realtà secondo me su Solana non c'è stata questa cosa perché comunque l'utenza è abbastanza restia e soprattutto adesso siamo in un momento in cui non c'è quei volumi che ci sono stati in quel momento di market con BNB non so effettivamente diciamo è divertente la cosa delle meme coin però allo stesso tempo fa un sacco di cattiva pubblicità boh cioè sì 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 assolutamente perché più che altro nel senso se vogliamo un paragone brutto però se vogliamo fare il paragone del mondo cripto al mondo stocks tradizionale non esistono meme stocks ok sì ci sono le perni stock ok però comunque a prescindere un'azienda che è arrivata a fare un IPO e che quindi è arrivata a emettere una stock è un'azienda che ha passato un sacco di due diligence che ha passato un sacco di controlli e che effettivamente crea valore in qualche modo poi sia lecito o meno che sia appunto di valore o meno se abbia senso investirci o meno è un altro conto però a prescindere comunque diciamo che il base layer di qualità è molto diverso in questo caso invece in ambito cripto chiunque ha la possibilità di andare a mettere una qualsiasi meme coin e sebbene faccia gola magari a gli utenti che magari arrivano nel settore cripto dal niente perché vedono il guru su instagram che dice no con questa puoi fare un cazzo milioni devastante guarda qua che salita incredibile come si chiama gonorrea si gonorrea coin il ticker si 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 compra ovviamente questo non fa bene al resto del settore perché magari appunto sono market cap piccole cioè sono magari che ne so un milione cinque milioni dieci milioni proprio apoteosi totale sono che ne so cento milioni a volte può anche succedere poi ad esempio c'è stato pepe che ha fatto proprio queste exploa folle è cresciuta cresciuta un sacco resta comunque una meme coin però comunque sono soldi che se ne vanno ipoteticamente da progetti un attimo più validi e se andassimo a togliere tutto il settore delle meme coin sebbene ci sia un grosso business anche lì e andassimo a inserire questi capitali nello sviluppo di progetti cripto effettivamente validi allora la situazione sarebbe ben diversa adesso non mi ricordo chi è che aveva fatto questo discorso però se ipoteticamente noi andassimo a eliminare tutte le cripto che sono oltre la centesima posizione vai su coin market cap togli tutte quelle che sono dopo la centesima posizione si andrebbe a creare un mercato cripto nel quale ogni progetto va a risolvere un singolo problema ogni progetto ha la sua chiara identità definita e non c'è nessun tipo di rumore quindi lo sviluppo si concentra molto meglio su ciò che effettivamente è valido ed è valido per un motivo perché si trova lì e che quindi hanno capitalizzato adesso miliardi e allora in quel caso probabilmente è molto molto ipotetica come roba ovviamente non succede però in quel caso allora probabilmente il settore cripto riuscirebbe a andare più velocemente verso la direzione di mass adoption generale perché effettivamente sarebbe un settore completo senza tutto quel rumore che va a togliere l'interesse da ciò che in realtà se non merita davvero sì diciamo che tutto ciò è anche fisiologico perché le cripto sono un cambio epocale di anche costituzione di un settore finanziario perché è inutile provare a proiettare le cripto nella stessa direzione di che ne so un Nasdaq o comunque un indice di mercato che raggruppa i tech stocks perché prima di diventare un tech stock chiaramente come dicevi anche te accennato prima c'è un lavoro di due diligence ma anche solo di raggiungimento di clientela fisica impressionante un livello di report finanziari di tasse di tassazione che è delitta al mondo in generale è uno dei settori oltrepassando la finanza più difficili da penetrare quello di diventare un'azienda tech mentre nelle cripto chiunque abbia un computer e duemila dollari per il marketing può costituire una sorta di micro azienda una sorta di progetto che nel migliore dei casi facciamo domani al Bitcoin di 2140 può raggiungere milioni e milioni di volume e per Genesi è anche la secondo me la traslazione di un meccanismo alla Bernie Madoff alla Gen Z nel senso che una volta per rubare soldi e per provare a fare il soldo veloce dovevi romperti il culo per 40 anni per poi avere il diritto percepito di scammare l'istituzionale essendo anche te istituzionale adesso c'è un canale d'accesso molto molto più facile per le nuove generazioni che vogliono fare marketing di un prodotto per incassare e poi se riusciamo a ridare soldi agli investitori ci sta ma non è la priorità sostanzialmente ci pensiamo dopo una volta per fare questo avevi solo una strada ovvero apparire serio quindi anche il penny stock che non ha valore deve apparire serio qui non hai limiti perché anche la tua demografica non gli importa abbiamo Spider-Man Bitcoin ricorda Spider-Man Bitcoin però è un progetto serio non possiamo agglomerare anche Spider-Man Bitcoin in questo discorso dirò una banalità però obiettivamente se non ci fossero le crypto sotto la centesima capitalizzazione di mercato non ci sarebbe nuova utenza e soprattutto Memcoin sotto al centesimo di prezzo dici? no sotto al centesimo di posizione di capitalizzazione come classifica sul market cap più che nuova utenza direi volatilità anche anche volatilità un settore molto più ok c'è V-chain per la supply chain c'è Bitcoin per digital gold c'è XRP per le transazioni istituzionali c'è Ethereum per costruire Solana per costruire chip e ok c'è il movimento di prezzo se tu non hai altre alternative esplosive è dopo un po' stagna chiaramente sì 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 quello sì però appunto era un discorso legato al cercare di diminuire al massimo il rumore che viene generato è vero ma quel rumore forse un po' serve è fondamentale no no è fondamentale se tu vuoi profittare su questo mercato è il più bel segnale finanziario che ci possa essere quando quel settore è morto entri quando quando Lana Rhodes lascia l'NFT della sua parola con la F che finisce per Iga depilata e poi raga i suoi utenti allora sai che è il momento di uscire dal mercato sì dovremmo fare tipo Lana Rhodes indicator appena viene fuori quella news cioè no quello che volevamo fare era quanto avvicinava la merda al ventilatore ventilatore indicatore il ventilatore il ventilatore indicatore il vendicatore il Tony Stark ok è andata ok facciamo il vendicatore che ha praticamente una colonna verticale in cima al ventilatore in basso alla merda quando la merda si avvicina troppo al ventilatore è il momento di uscire è un tipico proverbio inglese bellissimo che però effettivamente rende molto l'idea nel senso c'è una parabola ascendente in questo caso a livello di prezzo di bitcoin prezzo di Ethereum e tutte le varie le varie cripto che è in salita incredibile sembra quasi inarrestabile come roba però poi arriva una certa nel quale tutto comincia a sgretolarsi completamente se la merda tocca al ventilatore che sta girando poi c'è merda ovunque in maniera molto semplice per cui faremo questo indicatore tra l'altro il buon vedro di approfittere il vendicatore ha toccato su un punto che vorrei su quale vorrei espandere perché giustamente espando ha detto che ha indicato come il trend delle coin un po' più inutili le shitcoin le wincoin i progetti microcap chiaramente su Solana abbiano sia una dimensione minore rispetto a Terum anche per i volumi di questo momento del mercato che si si è ripreso ma poi comunque Solana ha una market cap molto minore esatto e però ha fatto notare che questo trend si è stato esportato anche su Solana e come sappiamo chiaramente ormai Solana non ha nessun tipo di motivo soprattutto dopo il crollo di FTX che se vogliamo vederla anche a livello di decentralizzazione stava un po' tenendo le redini di quello che poteva fare Solana su una run perché comunque la quantità di Solana in possesso di Alameda e di FTX era incredibilmente ingente i loro volumi di trading quando dovevano tradare erano incredibili anche su una rete come Solana che può fare tantissime transazioni al secondo TPS e adesso chiaramente c'è molta più libertà un po' come Dobby quando Lucius Malfogli dà il calzino che diventa un elfo libero che diventa un elfo libero Solana è un elfo libero Samman Vrid ha dato a Solana un calzino benissimo quindi detto ciò non sarei stupito nel vedere grossi trend come la DeFi chiaramente gli NFT che già un po' cominciato ormai è lì e trend che comunque sono a livello mediatico percepiti come esclusivi su Ethereum come per esempio la DeFi o perlomeno c'è un monopolio pazzesco anche a livello di narrativa che si spostano piano piano su Solana come alternativa viabile monopolio 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 monopolino detto ciò vorrei chiederti quindi quale pensi escludendo un attimo gli NFT che poi affronteremo un po' più in dettaglio quale pensi che sia il prossimo trend che vedrà Solana come principale esponente o perlomeno quasi alla pari di Ethereum se non comunque posizione da comprimario quale pensi ci sia come primo io credo che io credo che DeFi possa essere un ottimo scalino proprio perché non ero non ho praticato DeFi su Solana nello scorso ciclo però mi ricordo che si parlava di qualcosa che aveva a che fare con un Jaguar o no allora c'era come si chiamava io un po' ho debolato su Solana c'era Orca Finance Orca Finance va bene quello c'è ancora quello c'è ancora ok come Radium c'era vabbè Radium c'era Serum e c'era Serum che era però DFTX quindi è andato a bagage brutta storia c'era qualcosa che ha a che fare con un felino della Savana non mi ricordo però andava di brutto non mi ricordo era una Crypto non mi ricordo però come si chiamava non mi ricordo perché mi ricordo Sunny che era un aggregator che ti mollava degli APR folli anche su Stable cioè tu mettevi a farmare USDC tipo al 60% APR no anche di più c'è robe malatissime e Cita forse può essere Cita Nashimi io cercavo un Jaguar Cita è anche CH e TAH sì non lo so io lo sapevo c'era Radium mi ricordo che Radium era interessante soprattutto per le IPO bravissimo mettevi una locazione di Radium IDO IDO scusami 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 IDO è troppo esplicito poi arriva la SEC c'erano era figo Radium se avevi un buon quantitativo di Radium tu partecipavi all'IDO era figo e va ancora a Radium in realtà solo che Radium sta a zero però diciamo in un'ottica di con le cose così sarebbe figo tra l'altro quella Crypto che avevo messo like quella di Only One dalla piattaforma era stata lanciata in IDO su Radium e tra le varie poi forse avevano messo anche Star Atlas una porzione Star Atlas l'avevano fatto Star Atlas se non sbaglio su tre launchpad uno che era uno sconosciutissimo che si chiamava tipo Equinox una roba di genere e io ho preso l'allocazione lì perché avevo un lore in effetti che mi dava le allocations per cui gioia totale poi l'altro era Radium e l'altro ancora era FTX dove avevano cominciato a fare un sacco di lanci avevano lanciato quello avevano lanciato Aurory anche altro progettore che ho visto che è ancora ci stanno ancora lavorando il buon Gianluca Bruno di Midadao c'ha il cappellino di Aurory adesso c'ha il cappellino di Aurory bello bello no ma ci sono un sacco di progetti super interessanti a livello di Play to Earn su Solana e sarebbe veramente carino se si riuscisse a fare quello switch da ok mi gioco il Play to Earn solamente perché ci voglio guadagnare appunto il token di gioco e farmi due soldi a far diventare questo aspetto monetario quasi più una componente normale però comunque secondaria del processo di Play to Earn e quindi farlo diventare non tanto un Play to Earn quanto un NFT based videogame sia a livello di dinamica anche di sviluppo se non è un gioco di carte fatto bene come Goz Unchained per dire che poi vabbè il gioco di carte è un po' riduttivo però ci siamo intesi con un economismo base perché un gioco di carte piuttosto che un gioco di strategia a livello di meccanica avrà sempre una demografica quindi se lo fai bene anche su blockchain un Play to Earn diventa Play to Own mi piace dire come termine mi risuona abbastanza nuovo e l'unica cosa è che se tu vuoi creare ora sparo l'esempio esagerato però per intenderci un Call of Duty un FIFA un qualcosa di un gioco tripla sì comunque anche a livello grafico avvincente che ci vai per quello appunto la cosa più vicina che abbiamo avuto è Star Atlas ma anche Star Atlas a livello di tempi di development e odiernamente anche Illuvium sono cose che a parte che come sviluppo ci sono circa 5 team al pianeta che possono fare a parte i player quelli appunto EA Sports sai quelli tradizionali Ubisoft eccetera in blockchain ci sono forse 5-6 team al mondo in bull market perché poi devi anche raccogliere fondi non è che non c'è un team che spende 500 milioni di euro e in più anche a livello di tempi di sviluppo e odierne odierne il prodotto che è purtroppo le aspettative non sono state rispettate a pieno per esempio Star Atlas è rimasta in closed beta e open beta per anni Illuvium ha venduto le sue terre ha fatto 70 milioni e poi per mesi è scomparso il primo lancio ha fatto 70 milioni poi ne hanno fatti altri però quello che diceva è che ora come ora comunque per quanto riguarda sebbene il mercato play to earn sia molto forte è molto forte all'interno del settore cripto e basta però se si riuscisse veramente a fare quello step successivo dove l'aspetto puramente economico monetario viene messo da parte diventa una componente standard comunque è uguale c'è il corrispettivo del lato gameplay come Sorare Sorare che in Italia è conosciuto come Sorare che essendo un fantacalcio monetizzabile direttamente ogni settimana e tramite NFT invece il fantacalcio c'è il premio di fine anno e basta e che a volte la gente non paga quindi smart contracts anche per quelli merde giusto però appunto fantacalcio è parte integrante del gioco è fare più punti molto semplice fare la tua squadra fare più punti e prenderti il denaro vincendo qua su Sorare hai mille classifiche contemporanee su cui vuoi giocare hai le classifiche appunto puoi monetizzare ogni giorno se vuoi se hai l'intuito prendi il giocatore e ti performa bene il giorno dopo sale di valore trade e chiaramente essendo sinonimi gameplay e lato monetario hai risolto un problema infatti Sorare ha una demografica impressionante e che è cresciuta in Bermarca ma perché l'hanno reso molto semplice quello che però secondo me sarebbe veramente la chiave di volta in questo caso sarebbe riuscire a penetrare il settore degli sports perché gli sports ti permettono veramente di arrivare ad una demografica molto molto grande legata anche proprio in questo caso a appunto questa nuova disciplina sportiva e quindi a quello automaticamente nel senso se prendiamo Gods Unchained diventasse un gioco ufficialmente competitivo agli stessi livelli di Hearthstone per dire allora in quel caso lì si riesce a uscire completamente dal settore cripto nel senso il settore cripto resta comunque la base però si esce completamente dal settore cripto si attrae un'ulteriore demografica che magari si avvicina a quel gioco lì senza neanche sapere che è un gioco cripto come lo stesso discorso di Sorare quello è l'ideale per tutta la blockchain metti davanti metti davanti il gioco l'esperienza sul guadagno e soprattutto se fai diventare il guadagno una componente e la tecnologia sottostante cioè l'NFT non diventa più ah minchia il gioco con gli NFT so già che cazzo è no oppure che ne so ah i pagamenti cripto ah non mi fido per esempio Solana e Visa un giorno l'ideale per il settore blockchain secondo me sarà che tu puoi fare settling dei pagamenti tramite Visa e Solana senza neanche sapere che cazzo è Solana cioè Solana come Visa diventa una parola no e se tu chiedi al cristiano che utilizza Visa o Paypal per dire come funzionano nessuno ti sa dire niente no gli NFT diventano già che ne so io ho nerdato come un maledetto su Skyrim sono arrivato ad averci tutta l'armatura da Edrica stupenda ora la posso vendere adesso ho perso tutta la demografica di donne che sono presenti in qualità comunque ho la mia bellissima armatura da Edrica stupenda la voglio vendere a qualcuno perché io mi sono fatto che ne so l'armatura nanica e preferisco l'armatura nanica perché mi piace di più a livello estetico ti vendo l'armatura da Edrica me la paghi e te lo so fare tranquillamente senza doverti magari vendere il mio account o c'ho spiritual guard udir e te lo posso vendere così al volo sì vabbè però parla italiano eh sì senti qua mi risalgono Quedro piacere le memorie ci vediamo la banda degli evocatori ah ah le carte ma comunque siamo lontanissimi da secondo me da un play to earn meglio in quel senso c'è tempo per accumulare no vabbè quello quello si c'è stato vabbè faccio sempre l'esempio di Axe Infinity che forse è l'unico che ha avuto una risonanza importante però vabbè tutti gli scandali tutti i cazzi però diciamo che ha avuto un'adozione molto grossa soprattutto perché nei paesi asiatici bravissimo sì e anche perché gli stipendi specialmente poi in crisi covid è una parte della mia tesi di laurea in Indonesia nelle Filippine c'era una quantità c'era circa il 40% della nazione che giocava Axe Infinity si faceva tipo 300 dollari al mese che lì lo stipendio medio è ancora meno ed è è stato bello perché Axe Infinity è stato sostanzialmente un gioco anche a livello di UX UI che super bello tranne poche cose era semplice era un gioco che magari potessi trovare un gioco simile su su gioco.it sarebbe stato che ne so il che ne so il gioco di appunto la creaturina che fai gli uno contro uno tipico tipico gioco da telefono come può essere la grafica di Angry Birds esatto quindi appunto è stato molto bravo Axe Infinity come progetto a rendere questi passaggi cripto molto molto lineari e non una cosa che ti disturba cioè perché chiaramente hanno raggiunto miliardi di transazioni anche perché poi sono andati su Ronin perché fossero rimasti su Ethereum però c'era una transazione pagavi 50 dollari raggiunto livelli clamorosi c'era Metamask comunque di mezzo vero? per accedere su Ronin serve Metamask sì Metamask è sempre presente not user friendly Metamask comunque no diciamo che cioè ci sono questi questi grossi muri stanno cercando di rimediare anche Metamask sta cercando di rimediare però anche lì cioè io personalmente poi chiudiamo questa parentesi torniamo magari sugli NFT di Solana e trovo molto molto non so se è un buon segnale che un wallet che viene usato come esempio per il wallet decentralizzato abbia sostanzialmente un team cioè o comunque delle persone che si sono prese a carico il nome di team e sono cioè poi si può dire ah sì no ma in verità sono i developer della community sì però è un team cioè sono sempre gli stessi il concetto di decentralizzazione è molto molto relativo nel senso decentralizzazione me la puoi intendere come ok io ho una blockchain che a livello di algoritmo di consenso distribuito funziona effettivamente in maniera decentralizzata perché c'è nodo qui nodo là nodo lì eccetera 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 sono decine di migliaia che lavorano così ma nel momento in cui mi dici ah sì no questo è un progetto totalmente decentralizzato è la coin che fa questo l'altro e scricchiola abbastanza come cosa sì no assolutamente perché è giusto perché comunque da una parte comunque dovrà pur venire se vuoi ottimizzare serve c'è anche da dire se devi dare qualcosa serve forse c'è appunto bisogna bisogna stare attenti ecco soprattutto anche Ethereum che per carità io come ho detto più volte holdo ed è comunque un asset che tutti noi teniamo d'occhio e c'è Ethereum ma anche gran parte dei suoi nodi in mano ad Amazon per dire e quindi soluzione di hosting più comoda decentralizzato fino a un certo punto perché comunque se Amazon dovesse ripiutare Ethereum sarebbe il pandemonio per almeno qualche mese ah ecco mi hai fatto venire in mente una bellissima domanda perché ti hai detto appunto Ted Aswell di Ethereum invece un po' di tempo fa ho deciso di vendere qualcosina per avere un approccio un attimo più conservativo infatti adesso sono principalmente esposto su Bitcoin Stablecoin non più Solana mi dispi però ho venduto intorno ai 30 dollari infatti ogni tanto dormo ancora cioè non dormo ancora e più poi vabbè due robe Celestia Cosmos però in piccolissima percentuale diciamo principalmente Bitcoin Stablecoin lei perché mi aspetto comunque un attimo un ritracciamento e robe varie mi sbaglierò sicuramente in ogni caso te invece come come la vedi sul mercato cosa ti senti in generale il mercato in generale cioè tutte le cripto in generale tutte ma onestamente non lo so cioè non me ne intendo troppo però da quello che ho sentito come avevo anche detto in privato ma secondo voi cioè se Bitcoin sta sopra i 35k diciamo si può invalidare diciamo il bear market non convalidare il bull market però diciamo Bitcoin sopra i 35k in teoria in teoria si può presagire che da qua in poi potrebbe essere più positivo rispetto a quello che abbiamo vissuto precedentemente è una risposta molto democristiana me ne rendo conto però non ci sta cioè se ti devo dire onestamente cioè tornando al discorso di prima Solana probabilmente subirà un ritracciamento importante ma speriamo speriamo in Dio nel senso in realtà va a 38 se va a 38 potrei fare un attentato neanche il tempo di scendere poco sotto i 40 che Bitcoin arriva a che ne so a 45k e Solana segue io amo così tanto Solana e mi serve così tanto io ci ho fatto una lettera d'amore che io spero spero che San Bachman Freed dica qualcosa che sia proprio un Blackstone event e che Solana vada a 5 così io posso riempirmi ste bags gigantesche va bene ci sto voglio che FTX risorga tutti si fidino di FTX FTX ricompri tutti Solana che ha comprato e poi crolli di nuovo siamo tornati è successo di nuovo è proprio così la voglia e se per caso questo non dovesse succedere attentato non dico dove non dico come anche intervengo con un attentato Twitch non mi va mai però sono d'accordo con Wedro a proposito di Solana e a proposito di sviluppi futuri di Solana e seguendo un attimo di rilasci che sono stati venuti rilasci annunci e robe varie che sono avvenuti al breakpoint si è parlato di Fire Dancer Fire Dancer aggiornamento della blockchain Solana devastante che permette di aumentare il throughput da 10 a 100 per che non è poca roba nel senso noi abbiamo già Solana che è una chain con un throughput folle perché comunque lo vediamo nell'usaggio di tutti i giorni abbiamo un'altissima scalabilità fees bassissime e funziona comunque bene è difficile che Solana venga congestionata particolarmente funziona meglio adesso in particolare migliora sempre adesso in particolare comunque non ci sono grossi volumi non siamo in un periodo di stress folle ci siamo stati nel momento in cui magari c'erano bot che comunque cominciavano a riempire la chain di transazioni però in realtà in casi normali di utilizzo funziona veramente veramente bene e riuscire a prendere Solana e moltiplicare per 10 minimo o arrivando fino alla possibilità di moltiplicare per 100 il throughput quindi semplicemente la possibilità di gestire transazioni in uscita molto molto semplice e significa che Solana è veramente cioè riesce ad arrivare n mila passi avanti rispetto n rispetto a un sacco di altri progetti competitor poi Ethereum sappiamo che a livello di throughput non è per niente allo stesso livello Ethereum però comunque si sta prendendo un altro tipo di narrativa che è quello appunto del network decentralizzato sul quale costruire progetti via dicendo più a livello tecnologico tecnico Solana invece risolve una grossissima necessità che è quella di essere un terreno fertile per tutto questo tipo di progetti quindi DeFi videogiochi NFT tutto ciò che ha bisogno di essere venduto scambiato comprato in maniera molto molto consistente comunque videogiochi play to earn sono caratterizzati da un sacco di transazioni che devono essere praticamente quasi impercettibili dalla persona che sta giocando il gioco perché se no cosa faccio io gioco questo gioco magari mi guadagno 3 dollari di token del gioco per aver vinto la challenge però ne devo spendere 5 di transazione per fare il claim non funziona così però questo permetterebbe sicuramente a Solana in futuro nel momento in cui il carico di richieste diventa molto molto più importante più gravoso perché magari comunque il network è andato ad espandersi via via le richieste sono sempre di più eccetera eccetera sappiamo comunque come funzionano queste cose in particolare in bull market che abbiamo visto permetterebbe veramente di avere una Solana pronta per tutto ciò che arriverà in futuro e faccio riferimento a pronta da qui a che ne so almeno 5 anni perché comunque questo ti permette veramente di gestire parecchie transazioni più cioè volumi comunque di transato molto più alti rispetto a quello che sarebbe necessario attualmente assolutamente assolutamente sì diciamo che quello lì era un argomento abbastanza pressante per me perché avevo vissuto il momento in live proprio il momento del down di Solana con conseguente spegnimento questo piace tanto agli haters è successo un paio di volte ah sì è successo ti direi sì due volte forse due volte e mezza e mi ricordo proprio era due volte e mezza sì perché c'era stato un down anche che è passato un po' più inosservato però la linea di massima era necessario e ora obiettivamente vorrei vedere se effettivamente funziona questo questo fire dancer se effettivamente scarica un po' la la chain da transazioni perché diciamo avevano già risolto in parte il problema andando ad applicare micro fees su sulle transazioni micro fees che se fai una transazione non te ne accorgi neanche se ne spari 10.000 al secondo pesano e scongiura un po' l'utilizzo di bot perché erano bot che si utilizzavano soprattutto mint dnft e ce n'era uno veramente potente proprio era sgravato da quanto era potente quel bot e costava un bot tra l'altro costava tipo 100 solana il bot che costava un bot e questo è un bot squid che costava un bot comunque se magari minti un tot di nft si ma poi si deve te lo rifai anche in servo ma poi il discorso dei bot è complicato perché non è soltanto il bot serve tutto un tipo di setup serve l'rpc serve il server giusto serve il server si diciamo che puoi scegliere se fare il server il bot costa un bot costa un bot o ti fai una mining farm o ti fai una bot farm entrambi le notizie però assolutamente e mi sentirei anche di aggiungere il discorso che se Visa ha dato il via libera a una partnership di queste dimensioni consolana è perché la due diligence è tornata positiva io presumo che abbiano parlato anche di dell'introduzione di Fire Dancer e comunque del fatto che sia una tecnologia che non è un'introduzione un po' a metà come magari tanti IP passati di Ethereum che chiaramente finiscono per funzionare ma il problema viene risolto tre anni in ritardo per esempio l'autom come update doveva succedere nel 2017 adesso vi faccio un'analogia importante cioè perché Visa ha scelto Solana e non ha scelto ad esempio Ethereum perché comunque Solana è molto più vicina a Visa come idea anche Visa circuito di pagamenti con settlement istantanei la stessa roba comunque di Solana diciamo ti dà la possibilità di fare pagamenti istantanei comunque transazioni molto veloci che vengono finalizzati al di sotto di un secondo ovviamente questo non può avvenire su Ethereum cioè Solana in questo caso è il circuito di pagamento istantaneo la Visa dell'Ecrypto mentre Ethereum potrebbe essere il bonifico bancario dell'Ecrypto sì questo sì hai visto? è potente sta roba bello però Ethereum più Polygon già ci si avvicina un po' ovviamente con Polygon con tutte le Layer 2 Solutions abbiamo una una pezza che viene messa a un problema però comunque è una pezza al culo ora vediamo comunque che c'è ad esempio Base che sta tirando fuori un ecosistema che contro coglioni sicuramente essendo Coinbase qualsiasi cosa legata ai checks non avrà mai l'esplosività di un cioè avrà l'esplosività legata legata al mercato in sé perché chiaramente come abbiamo visto con Binance se Binance accresce i suoi volumi e accresce proprio i suoi mercati BNB per forza di cose esplode quando il mercato era ancora lì per lì BNB stava a 20 dollari diventato 600 nel giro di due mesi adesso anche Coinbase comincia a fare tutto il wash trading di liquidità folle per pompare come alla base lì vedro poi magari dopo questa live andiamo un po' a esporti delle cose che abbiamo visto recentemente da per esempio il nostro amico Davide di Crypto Agora che parlando del recente pump proprio per dare più prospettiva parlava dell'utilizzo di FDUSD che è che è quello che sta sostituendo che andrà a sostituire BUSD che chiaramente è stato discontinued perché i suoi issuers non vogliono più issuarlo e si stima che FDUSD oltre a quelli che sono in questo momento in staking abbia un circolante di circa 170-180 milioni di dollari ma il volume che ha registrato in 24 ore su Binance è equivalso a 1.6 billion di volume in 24 ore ora o c'è letteralmente il bot che costa un bot ma ce n'è tipo 46 mila che fanno wash trading di continuo e se fosse così bisogna vedere chi è il colpevole perché con quei fondi lì i sospetti uno si chiama C l'altro si chiama Z li mette assieme e diventa CZ cioè non c'è non c'è letteralmente nessun altro che potrebbe tramite Binance fare una roba del genere c'è CZ lì così sì tipo 4 che nessuno ha ancora capito sta roba del 4 di CZ CZ quante volte pomperai il prezzo di BTC con fondi artificiali 4 il sogno finché non lo sgamano a me preoccupa solo che li sgamino CZ ma tra quanto crolla Binance 4 4 cosa CZ 4 anni e lui 3 2 1 vabbè detto ciò direi che possiamo un attimo andare ad affrontare il tema NFT di Solana Sui perché chiaramente la community si chiama NFIT Sua e noi siamo qui a parlare di Visa di BTC di CZ stiamo parlando di tutte ste cagate e io voglio parlare di NFT su Solana con uno che NFT di Solana se li mangia colazione ne sa assieme alla focaccia dentro al cappuccino al pezzo quindi parliamo di NFT Solana c'è stato un movimento legale a pump gigantesco sgravato dell'ultimo mese mese e mezzo come è stato vissuto cosa è sta mano sull'orecchio scusa no no era partita una laggata all'inizio mi sono perso all'inizio della domanda però credo di aver capito contestualizzando anzi anzi visto che c'è questo momento di interruzione io faccio uno shout out a tutti i nostri followers un secondo tutti sono 100 allora ragazzi miei ragazzi miei volevo dirvi solamente che se avete Amazon Prime potete fare la sub per favore fate la sub potete fare la sub gratis a 2140 podcast 2140 podcast o se non è il vostro podcast preferito perché questa roba vi dà un potere incredibile vi darà la possibilità di entrare nel fotonico gruppo Telegram e con questi fondi derivanti delle sub cosa verrà fatto verrà creato un portafoglio super folle che dovrà ovviamente perdere tutto nel minor tempo possibile all'inizio della prossima bull run del quale voi sarete i decisori i condottieri i conduttabili fate la sub grazie chi conduce prego chi conduce continuate pure continuiamo quindi vedro parliamo di nft su solana come l'hai vista la situa allora ci sono stati due nft importanti prevalentemente che sono stati mudlads e clenosor mudlads ha rivelato che avrebbe vedro grazie per la sub in live mudlads è diciamo il progetto di armani ferrante che ha costruito il wallet backpack eccetera eccetera dal fumo di questo progetto è emerso che avrebbe fatto il primo non il primo avrebbe fatto un exchange centralizzato sotto il marchio di questo mudlads wow bullish non bullish non lo sappiamo perché obiettivamente non è dato sapere se effettivamente ci sarà un riscontro per gli holder io onestamente spero di sì perché altrimenti sarebbe la solita la solita fuffa dove compro un nft perché voglio partecipare a questa cosa qua sono arrivato e in merito qualcosa quindi qualora io mi immagino qualora dovesse esserci un token di exchange immagino un'allocazione dedicata ai possessori di questa nft è giusto è sbagliato non lo so si fa sempre così quindi perché non potrebbero farlo anche loro voglio dire una piccola porzione non mi devi dare l'80% da supply agli holders così però c'è ci sta sarebbe interessante anche oltre che giusto e al di là di questo poi c'è il collegamento col wallet quindi in teoria sarebbe un exchange centralizzato accessibile attraverso il loro wallet che è decentralizzato perché diciamo non l'avete mai visto voi backpack come wallet no 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 x backpack è praticamente la risposta a phantom in poche parole che ha diciamo utilità native un po' più elaborate rispetto a phantom domandina a prequisito di wallet domandina sollet lo usa ancora qualcuno picchia sollet no sollet era di ftx no ah ecco no infatti sollet anche cioè c'aveva anche quell'ftx adesso sta tornando qualche nauge per qualche motivo soul flare bello ok sì bello venuto fuori dal limbo soll flare no però diciamo che phantom a livello di usabilità generale anche a livello di estetica comunque fa veramente le scarpe a tutti sì 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 è stato il primo mi ricordo avevo scaricato il primo wallet di solana che ho fatto era sollet anche io poi soll flare ah soll flare esatto poi dovevo mintare il primo nft mi hanno detto ah scaricati phantom cioè non scaricare quelle spazzature lì di wallet che non ti fanno neanche vedere l'nft che hai mintato infatti phantom tra le particolarità ora lo fanno tutti però era il primo e l'unico che faceva vedere l'nft che mintava e i tempi in cui tempi arcaici era era molto interessante come cosa invece l'altro progetto che diciamo sotto un po' i riflettori proprio grazie al breakpoint è stato clenosor perché hanno rilasciato i pupazzetti e a parte quello che era pupazzetti fisici si diciamo conoscete padgy penguins no ho già sentito però no è diciamo uno dei progetti più importanti del momento su ethereum il loro obiettivo è brand IP quindi immagine cercare di diventare più popolari possibili nel mondo e hanno rilasciato dei peluche che scannerizzando dei cosi tu ottieni un nft di quella collezione che ti vale come diciamo collezione secondaria di padgy penguins e benefici in realtà non ce ne sono o meno perché non ottieni uno share dei guadagni delle vendite sul mercato tradizionale però a livello di immagine è potentissimo perché comunque se questa cosa dovesse funzionare e dovesse fatturare tanto nel tempo comunque tu sei in possesso dell'nft che ha finanziato questa mossa qua quindi sei un early investor e a livello storico secondo me è una cosa importante Clenosor alla fine sta facendo una cosa simile credo che ci sia anche una sorta di gioco oltre a questo perché c'è una sorta di gamification nel progetto perché tramite il pongo la macchinetta del coso non so se avete visto il trailer su youtube che è fichissimo sembra un trailer dalla pixar tranquillamente e tramite diciamo dei componenti l'idea sarebbe metto il dinosauro dentro la macchinetta insieme al pongo faccio andare la macchinetta e esce il dinosauro chittato con le con che accento ligure me lo stai dicendo scusa mi è partito alla cadenza ma tra l'altro non riesco a tenerla ma tra l'altro io posso picciare una cosa per il team di Clenosor io farei una V2 un altro lancio del clay steroid lancierei l'asteroide che ha ucciso tutti i dinosauri in questo caso i clenosauri e tramite l'NFT dell'asteroide ti puoi tipo non so come funzionerebbe però puoi bruciare il tuo NFT precedente e crearne un altro ultra raro di qualche tipo che magari non è più un clenosore è un clay anfibio cioè comunque fai dei magheggi facendo il marketing col clay steroid che secondo me vendi come la madonna è bastante è bastante secondo me è il sogno aspetta un attimo e poi diventi clay homo sapiens questo quello si sembra un po' della pixar aspetta un attimo che siamo messi veramente malissimo così forse meglio c'è il pisello ah no sono le braccia no si comunque è allucinante come qualità bello sebra ma è bellissimo noi qua in ammirazione totale a guardare sta roba qua che ha bambino che fa l'arlem shake bambino con le dis noi vedro noi si che ce lo ricordiamo l'arlem shake oh si mega boomer che ne sanno questi qua nuovi che come meme c'hanno i tiktok un tempo c'era lebron james ai miami eat che faceva l'arlem shake e tipo due anni dopo c'era te lo ricordi l'ALS ai spike challenge con quelli che ci si cacciava mi ricordo mi ricordo che ci si cacciava l'ALS per chi non lo sapesse è la SLA è una malattia se c'era Stefano Borgonovo in Italia è un pazzo e sostanzialmente l'obiettivo della challenge era lanciarsi sto secchio di acqua gelata che era uno tra i sintomi della SLA comunque ci si sente come e poi chiaramente farlo nominando altre persone facendo una donazione e prolungando la catena di donazione era diventato così famosa sta challenge che io mi ricordo che due miei amici di 13 anni hanno fatto la challenge e chiaramente nessuno stava più donando cioè la challenge era diventata nessuno sapeva cosa cazzo significasse ILS e si metteva solo l'hashtag tutti facevano la challenge per cacciarsi un secchio d'acqua gelata in testa in mare nessuno donava un euro nessuno donava un euro sapevo questo questo aspetto delle donazioni cioè sapevo vedevo tutti che si ghiacciavano in secchio ma non sapevo delle donazioni quando è arrivato qui in Italia nessuno donava una lira poi è arrivato in Italia tardissimo un anno dopo però bei tempi davvero bei tempi assolutamente beato ignoranza no comunque super super interessante la cosa bella di questi eventi qua cioè poi mettiamo un attimo un puntino importante questo è l'evento di Solana nel quale veramente viene tirato fuori qualsiasi cosa quasi importante quanto Hit Milano quasi importante quanto Hit Milano a cui Vedro non ha presenziato facciamo Hit Genova ci vediamo noi tre basta in Genova siamo letteralmente noi tre che beviamo gli sciottini di assenzio in un bar di porto noi tre quelli di criptopesto basta mi piace sì sì carino in piazza delle erbe vada vada assiniamo il Galata e lo facciamo sul Titanic vai sono d'accordo sono d'accordo top sì probabilmente la location sicuramente ce l'abbiamo acquario quella lì no vabbè la fiera Italy sì ok no però è ancora abbastanza indietro probabilmente Genova anche perché vogliono dire un genovese oh metti 1000 euro su etterium che cazzo è te no no telecamera hai rotto il cazzo no infatti non ci sono nella demografica migliore no assolutamente mi dicono quelli che investono in etterium sono dei ravatti quanto suona bene ravatti una tra le mie top parole allora direi grazie mille signor Wedro per esserci passato signor Lord Wedro Lord Wedro paronetto Wedro feudata feudata comandante valvassore valvassore legioni wedristiche minchia che sembra una cosa molto estremista una roba folle oh bravo Dirk allora ok allora siamo in cima io vengo pensa senza no context io vengo da nulla Lois sto giungendo Lois e niente dicevo grazie mille per esserci passato a trovare in questa puntata numero 37 di 2140 podcast vi ricordo ancora una volta i social dei buoni ragazzi i buoni ragazzi sono bravissimi i good fellas brave persone ragazzi di NFIT quindi li potete trovare tranquillamente sotto il nome di NFIT su Twitter su YouTube adesso anche su Instagram anche su Telegram cosa su Instagram ah vabbè su Telegram avete fatto una storia oggi avete fatto una storia è vero finché me ne fate voi le storie io accetto aspettiamo un NFT 2140 no in realtà che è il mio buco del culo ah madonna sei andato proprio da 0 a 100 beh da 0 a 1 cioè poi c'è altro ma gli danno pure si faccio la mystery box come Cristiano Ronaldo oh chissà dentro c'è solo il mio buco del culo chissà in che rarità ti esce il mio buco del culo basta no allora volevamo dirti una roba Guedro che prima o poi in tempi super sospetti in tempi super sospetti arriverà il token di 2140 sarà il sarà il rag token rag token il rag token praticamente sarà collegato a una DAO di centralized autonomous organization per chi non mastica in questa DAO semplicemente ci confronteremo e voteremo insieme quando raggare perché è tutto legittimo è tutto legittimo si chiama rag token creato per raggare lo chiamerei tutti stanno dentro e stanno lì oh eh probabilmente lo chiamerei don't buy this giusto don't buy this token c'è tutti full disclaimer proprio subito NFA token mi piace sì 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 bello a presto facciamo uno scam progetto però è super legit perché scambiamo però lo diciamo lo diciamo non è una truffa lo sapete lo sapete ciao intanto così bene we're rug soon we're rug soon soon bellissimo quindi dicevo grazie mille vedro per esserci passate a trovare ci risentiamo allora per il rug token se volete partecipare viene fuori un progettone della madonna un NFT scam sì anche quello per forza che dici perfetto grazie mille mio caro ci rivediamo in bocca al lupo con tutti ragazzi a presto bene in vetro dobbiamo fare dobbiamo fare sto token c'è c'è un cazzo da fare c'è 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 quanti quanti holder c'è solo easy perché è l'unico che ha i soldi ha il cocoletto ci può stare dopo la rovina dell'alluvione dubito ci sia una demografica bisogna risollevare il cocoletto bisogna risollevare il cocoletto come facciamo il NFT il NFT e il Rack Token vai 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 andata mi sembra mi sembra molto interessante ci guardiamo un paio di news prima di chiudere sì tanto io tra poco devo cagare quindi ah beh perfetto perfetto ah 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 questa il mio omonimo questo è interessante c'era sempre meglio di me prendiamo solamente informazioni da altri sposto un attimo meta qua di lato allora se è un banquan fritto è arrivato il verdetto e la crypto industry sta reagendo un attimo al verdetto con le thumbnail così aspetta un attimo oh wow così le thumbnail sì 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 sono tutti presi malissimo no e semplicemente cosa cosa dicono ah it's a wonderful moment for crypto Paolo Brodi sì Paolo Brodi Paolo Brodi e niente appunto sono tutti lì che lasciano i loro commenti e dicono ah finalmente è un momento fantastico per le crypto e sì cioè sicuramente non non si può questionare a riguardo però quello che mi viene da dire è che probabilmente l'arresto stai fermo l'arresto del buon Sam McMahon Fritto è stato figa fra il no secondo me è tipo casino sto impazzendo è stato probabilmente il capo espiatorio per tanta gente che in realtà negli anni scorsi ha avuto la possibilità di fare le pazzie in ambito di crypto truffare gente caspiterina però non ha mai avuto riscontri legali in questo caso Sam cosa stai facendo? ah non sapevo fossi così chill va bene sapevo fossi così 9 miliardi più tardi lei cosa ne pensa a messare di questo avvicinarsi delle istituzioni ci sia la conferma anche da cosa è successo a SafeMoon non scordiamo vero vero perché sono stati sono stati SafeSume sono stati arrestati i tre minchia cervelli enormi dietro a SafeMoon è stato scoperto che hanno fatto quantità uno di questi qui ha fatto tassavano il 10% su ogni acquista e vendita hanno fatto 23 mila wash trade per spingere il volume di SafeMoon nel giro di pochissimo e hanno fottuto circa riscontrabili 75 milioni di dollari in SafeMoon dai wallet della community e sono in tre per cui nel senso sono scemi perché si sono fatti puzzare si sono fatti pollare se avessero avuto un minimo di cervello avrebbero fatto fallire il prodotto in Muran si sarebbero con quei soldi lì vi garantisco personalmente che ci avrebbero vissuto bene spendendo circa un milione a testa sarebbero scomparsi dalla mappa sarebbero avuto un nuovo nome sarebbero il Brasile a farsi tutte le brasiliane più belle del mondo e invece no sono scemi e basta però assolutamente man mano e soprattutto bisogna considerare che non c'è ancora il quadro legislativo completo una volta che ci sarà anche quello senza che la SEC sia faziosa e approfitti di questi bad actors faziosa l'ha detto ufficialmente il giudice capricciosa sostanzialmente una delle istituzioni finanziarie più potenti del mondo gli è stato dato del capriccioso a Gary Gens a reali in generale come un bambino di 5 anni rendetevi conto di cosa stiamo affrontando c'è invece quest'altra news importante lui non so se ha rotto il cazzo se è la mia persona preferita del mondo non ho idea sincero c'è una linea sottile lui cavalca con la linea come Sasha Graham con qualcos'altro non so non so davvero dirti se mi sta sull'anima più di qualsiasi altra persona più di BitBoy Crito che ti sembra Manfredo oppure se lo vedo così dico un bellissimo uomo se lo senti parlare mi sta sul cazzo hai rotto il cazzo è allucinante c'hai 70 miliardi di euro un po' di vitalità comprati due raglie non lo so no 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 ci dissociamo no condoniamo e allora il buon Michele Sailor è uscito di nuovo dopo uno dei recenti acquisti che ha fatto MicroStrategy vi ricordo CEO di MicroStrategy Michele Sailor MicroStrategy però è la strategy perché in realtà con quei soldi perché lo sa usare no vuole comprare l'enlargement anyway hai visto? costano un sacco ce n'ha già abbastanza infatti però ne compra uno veramente grande 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 un sondalo mi chiede raga avete visto il mio nuovo Pippo è veramente grande ma di chi è questo pippo? sono inciampato allora il buon Michele Sailor è uscito di nuovo con le sue parabole devastate dove dice uè allora bitcoin devastante figa arriva no non si può dire quella parola napoletano aspetta un attimo che ve lo faccio ve lo faccio interattivo Michele Sailor stiamo delirando mi dispiace uè raga uè raga non avete capito è figa lui parla così perché di padova tutti i padovani sono Michele quello che va a fare la vela e niente raga ho fatto dieci mi stai vedendo un ictus vabbè dicevo che bitcoin ancora farà i 5 milioni raga voi non avete capito un cazzo quando era 20k nessuno voleva acquistare adesso che siamo qui ci sono tutte le bici sul mio dick parla così raga si è un po' un po' scurrille il bro dov'è che lo diceva allora intanto con l'alving ora come ora nella situazione attuale con 6.25 bitcoin che vengono dati come ricompensa per ogni blocco minato ci sono 12 billion di natural selling per year ok questi 12 billion diventano 6 verranno convertiti in 6 questi cazzi in realtà 6 billion ma anche 12 billion su un bitcoin che ha praticamente mezzo trillion di capitalizzazione non vale non vale praticamente un cazzo per cui queste sono letteralmente super small talks che non valgono per player come noi noccioline non vale assolutamente niente però appunto faceva riferimento al fatto che appunto l'industria grazie a questi etf grazie a tutta l'awareness che si sta spargendo finalmente arriverà appunto a avere il successo che si merita e eccolo qua per far sì che l'industria faccia il passo successivo quindi a livello successivo dobbiamo spostarci appunto verso la supervisione adulta semplicemente dobbiamo arrivare in una situazione nel quale il mercato cripto è più maturo e quindi dobbiamo razionalizzare via da quelli che sono i 100.000 cripto tokens che esistono reale che le persone stanno manipolando spostarci da quello a bitcoin molto bitcoin maxi come roba però si fa riferimento sempre al discorso che facevamo in apertura della live dicendo che ci sono tanti progetti che vanno a offuscare le spotlight che in realtà dovrebbero rimanere su quei progetti che hanno in realtà qualcosa di serio da costruire è un processo per il quale servirà tempo sicuramente che non siamo sicuri se arriverà già in questa bull run o se arriverà nel prossimo ciclo di mercato però potrebbe essere quello che servirà per finalmente fare il passo successivo volevi dire qualcosa l'ho già detto ok però non si sia sentito aspetta 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 l'avete sentita dite qualcuno Dirk scrivi in chat se hai sentito se hai sentito questo movimento tellurico tellurico placche sono veramente forte in verità hai detto sei stato abbastanza ne abbiamo parlato anche con Vedro ne abbiamo parlato anche in linea generale è una narrativa che calcoliamo e tracciamo spesso nelle nostre live serve l'apporto dei settori tradizionali serve la supervisione degli organi legali non importa se invece del 3x non importa non importa nulla perché questo mondo è una farsa siamo solo dei pagliacci non importa che invece di 3x sulla meme coin fai 80% su btc o ethereum l'importante è che tu sia in un settore in cui invece che passare dal 6x o dal 3x allo zero nel giro di una settimana tu abbia la sicurezza e il paracadute anche dato da persone con più soldi molti più soldi di te e istituzioni con più soldi di te che operano nel tuo stesso settore e che gli danno una forma perché in questo momento un settore che adempisce gli stessi 20 use case adempia adempire adempia si può essere adempia poi la tagliamo la tagliamo al 7x che si ritira in un altro blocco cioè lui va a dormire a scatti di 10 minuti si 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 pazzo il suo hash è conservato non so dove ma dicevi dicevo adempia diciamo che gli use case al quale bisogna adempire sono 20 30 seri dico proprio fondamentali 20 25 e per ogni use case ci sono circa 600 prodotti pronti a fare la stessa cosa in diversi gradi di schifezza e con con circa 5-6 prodotti che poi sono una qualcosa che avrebbe senso avere che competono con prodotti di qualità non è segnale di un settore che ha una forma e soprattutto perché non c'è legislazione e come dicevamo prima anche con Quedro un grado di questo rimarrà perché non c'è modo di avere la Nasdaq non c'è modo di avere l'S&P 500 non c'è modo di avere se non tramite la nostra coscienza collettiva che decide di investire sempre meno nella merda e di andare sempre di più sul valore intrinseco sul trading ma su asset solidi e costruiti intorno a te costruiti intorno a te no comunque San Paolo Mediolano San Paolo non ci stiamo intendendo converti su comunque sì alla fine lo switch molto probabilmente verrà dato dalla coscienza individuale collettiva alla fine esisteranno sempre le Mimcoin eccetera il sogno per me è che esistano con il tuo wet dream 100 500k massimo di market cap e poi svaniscano e si dia un ciclo di investitori nicchia che cercano di fare anche un po' i venditori il gatto e la volpe che però non impattino più di qualche decina di milioni chiamiamoli così un mercato che ha il potenziale di arrivare a trillions oltre all'1 o 2 trilioni può fare tanti moltiplicatori da questo punto e non ha bisogno di un settore cioè un po' come in Harry Potter che c'era Diagon Alley e Nocturn Alley che era quello tutto strano in cui vendevano le cose strane e Stranger Things e quindi le Mimcoin devono essere Nocturn Alley in cui quasi ci arrivi per sbaglio e poi ci esci subito e popolato solo dai pochi scrausi che ci vogliono andare proprio apposta tutti stortissimi si vai a scopare stavo dicendo stavo dicendo vai a comprare la tua scopa solo che poi mi sono soffermato sulla scopa hai fatto la crasi e hai detto voglio scopare voglio scopare la tua compra no volevo dire volevo dire oltre a questo lapsus freudiano un tipo determinato tipo Firebolt oppure Nimbus 2000 però stavo pensando alla scopa e quindi scopare che bello comprare la finanza a Hogwarts e a Harry Potter però sì comunque sono molto d'accordo alla fine le altcoin sono merda ricordate e quindi ci rivediamo noi questo giovedì 9 nel quale parleremo di altcoin con Alex ah fa ridere perché è vero sì giovedì 9 alle 21.40 è il mio compleanno venite ah sì faccio 36 anni cioè te fai gli anni il 9-11 faccio il 9-11 ah ah in America l'11-9 ma in America il 9-11